Benvenuti in questa sessione pomeridiana di questo splendido congresso, mi chiama Massimo Gemmeria, vi presento qui accanto il mio co-chair person, il professor Castagno e in presenza uno degli opinion leaders Carlo Budano. Questa sessione sarà in parte in presenza, in parte in remoto e in parte registrata. Ringrazio gli organizzatori di questo gradito invito e passo la parola al professor Castagno per la sua introduzione. Grazie Massimo, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori di questo congresso, al comitato scientifico, in particolare a Carlo Budano per lo sforzo profuso nell'organizzazione dell'evento che è qua con noi in veste di Key Opinion Leader in una sessione che, come sapete, si incentra sulla cardiostimolazione, considerata spesso la cenerentola della cardiologia perché magari in curva di evoluzione più lente, in fase di plateau, ma così non è e la sessione di oggi ve lo dimostrerà con relazioni eccellenti e speaker di livello assoluto. Lui ha detto cenerentola, la cardiostimolazione è una cenerentola. Io ci sono nato con la cardiostimolazione, quindi sentirmi cenerentola è un grosso complimento. Dici un pochettino tu nella tua storia come consideri la cardiostimolazione. È una cenerentola oppure abbiamo ancora degli spazi per inventarci qualcosa? Io sono rimasto abbastanza colpito dalla definizione di cenerentola, semplicemente perché in realtà io sono arrivato poi alla cardiostimolazione un po' più tardi, passando dall'emodinamica, ma devo dire che ho trovato un mondo tecnologico e così affascinante che non l'ho mai considerata come tale. Anzi, sembrava praticamente un punto d'arrivo quando tu avevi una cognizione della cardiologia talmente più avanzata da riuscire a comprendere la cardiostimolazione, che è una branca della cardiologia assolutamente... Allora, spiegami, quando c'è stata la grande evoluzione della gestione dello scompenso, tu come anima emodinamista d'inizio, con guide, cateteri, non hai avuto nessun problema, immagino? Diciamo che forse ho trovato che l'uso della guida o l'uso comunque di cateteri è venuto manualmente più facile e dal punto di vista cognitivo era più facile capire alcuni meccanismi. Vorrei sapere da tutti voi se avete esperienza su questo impianto sul fascio disc, l'oggetto della prima relazione. Ditemi... La mia esperienza nasce praticamente dal rapporto con Eraldo, più che altro, che in ogni caso, fin dagli anni passati, ha molto insistito su questa tecnica e devo dire che dapprima per la difficoltà tecnica e poi per alcuni aspetti particolari proprio dell'impianto del fascio disc, mi avevano convinto poco. Poi in realtà, stando dietro ad Eraldo, devo dire che dal punto di vista pratico, da quello che erano i risultati, mi ha sempre stupefatto. Ho sgranato gli occhi e al che ho cominciato poi ad interessarmi della tecnica. Allora, ci dicono che possiamo sentire il contributo del dottor Francesco Zanon che ci parlerà delle tecniche di impianto e della programmazione dei dispositivi nell'impianto sul fascio di ris. Buongiorno a tutti, Francesco Zanon, dell'ospedale di Rovigo. E con grande piacere che saluto gli organizzatori per questa bella opportunità. Purtroppo per un concomitante meeting che organizzo con l'amico Maurizio Del Greco non potrò essere presente e pertanto vi mando la mia presentazione. Allora, mi è stato chiesto di parlare del S-Bundle Pacing, degli impianti e delle possibili metodiche. Allora, queste sono le mie conflitti di interessi. Allora, l'Is-Bundle Pacing è diventato sicuramente un argomento di grande interesse perché rientra in quello che viene attualmente denominato come Pacing del sistema di conduzione rappresentato dall'Is e dalla branca sinistra. Vedete qui dal punto di vista anatomico come a livello del nodo compatto e poi delle branche con la branca destra e la branca sinistra a livello della valvola circluspita. Questa è la rappresentazione in realtà che ben conosciamo dal punto di vista fluoroscopico nella sua proiezione permanentemente obliqua destra in cui vedete qui c'è la tetere che registra il fascio di Is e qui vengono rappresentate schematicamente quelle che sono le branche che è la branca destra e i due rami fascicolari della branca sinistra e qui vedete dove in realtà andrebbero poi posizionati il catetere per il fascio di Is e questo per la branca sinistra. Allora, quali sono gli strumenti che usiamo? Gli strumenti sono... ci sono degli strumenti e delle modalità. Allora, gli strumenti sono composti generalmente da un sistema di rilascio il sistema di rilascio composto da quello più usato sino ad ora era il sistema dell'Amitronic, il C315 o anche che è una curva fissa, oppure il 304. Recentemente comparse sul mercato il sistema dell'Amitronic è in un market release limitato il sistema dell'Arbot. Vengono usate sostanzialmente per il sistema dell'Amitronic un 4 French a vite fissa invece per gli altri due sistemi dei classici 6 French a vite retrato. Non usiamo più attualmente il catetere di mappaggio quello che è importante è avere un monitoraggio a 12 derivazioni. I sistemi invece di rilevazione del PSA sono sempre i sogni. Come facciamo il mappaggio? Lo facciamo in unipolare, usiamo il pacemapping e vediamo tutte le differenti possibili soglie per la cattura del fascio di Is per la cattura del setto e lo stesso per la cattura della branca a sinistra o per la cattura del setto. Questi sono i vari sistemi. Questo è il sistema dell'Amitronic con 4 French a vite fissa. Esiste anche un possibile sistema deflectable. Questo in realtà attualmente è il sistema più usato lo vedete sotto con due curve una curva primaria e una curva secondaria per dirigerci sul setto. Stessa cosa per il sistema della Biotroni. Vedete, in questo caso abbiamo tre curve. Questo è il raggio di curvatura primaria a 40 mm, 55 mm o 65 mm. Una seconda curva, eccola qua in questo caso, 13 mm per dirigerci sul setto. La novità invece del sistema dell'ABOT è quella di un catetere deflectable che avrebbe la particolarità di registrare con un bipolo nella punta del sistema di rilascio su cui viene fatto comunque entrare un catetere 6 French standard a vite retratico. Allora, è importante come vedete da queste foto fare un mappaggio in unipolare quindi è essenziale avere il poligrafo davanti indipendentemente dall'uso fluoroscopico o meno quindi il cocodrillo rosso sulla cute e il cocodrillo nero sul tip del catetere. È importante registrare a una velocità che ci consenta di valutare bene il segnale elettrico come in questo caso lo vedete rappresentato in rosso e quindi sostanzialmente, vedete in questo caso addirittura è spento l'apparecchio di fluoro perché ci basiamo solo e unicamente sul segnale elettrico. Il segnale elettrico che vi ho sommariamente schematizzato qui vedete in questo caso siamo a livello del ring tricospidalico c'è troppo atrio, non va bene e anche in questo caso c'è troppo atrio, non va bene piccolo atrio, un bel lisse e ventricolo questo è una buona posizione. Si tratta quindi di puro mappaggio elettrofisiologico. È importante comunque durante le manovre di riduzione dell'output valutare bene la morfologia. Vedete in questo caso a voltaggio più alto abbiamo un restringimento del QRS con cattura non selettiva però una cattura completa a valle del disturbo di conduzione diminuendo un po' si allarga un po' il QRS e diminuendo ancora l'uscita 1.8 in questo caso abbiamo un cattura selettiva del blocco di branca sinistro che permane. Quindi in questo caso con voltaggi più alti riusciamo a recuperare il disturbo di conduzione a valle del blocco di branca. Sommariamente la nostra tecnica del mappaggio elettrofisiologico senza fluoroscopia è riassunta in questo schema poi vi farò vedere brevemente un filmato quando ci connettiamo passiamo dall'aspetto tutto artefatto ha un aspetto di tipo rilevazione del segnale atriale in questo caso il paziente ha infibrillazione atriale quando il segno elettrico è così artefatto vuol dire che il catetere non è pienamente esposto quando lo spingiamo più avanti e troviamo un ventricolo unis è il punto giusto per abitare e poi per fare le varie manovre di pacing in questo caso vedete c'è una cattura non selettiva una piccola delta di precitazione riducendo l'ampiezza abbiamo unis elettrica e questa è una cattura selettiva del fascio di is possiamo avere come in questo caso una cattura dell'is prossimale vedete atrio abbastanza ben pronunciato is si tratta di un blocco sotto il siano o in fraissian come dicono gli autori anglosassoni oppure unis un po' più distale meno rappresentato l'atrio l'is è ancora un po' più piccolo e qui c'è una buona cattura adesso vi faccio vedere un filmato in cui brevemente vedete qual è il nostro modo di fare allora mettiamo il delivery system con dentro già l'elettrocatetere è già connesso il rosso alla cute connettiamo il nero e guardiamo lo schermo guardiamo lo schermo in cerca vedete a 100 di velocità troviamo un segnale un segnale che era prima triale adesso è ventricolare ruotiamo verso l'apice del triangolo di coca alla ricerca di un piccolo segnalino davanti al ventrico eccolo qui l'abbiamo trovato c'è un piccolo is guardate le mie mani adesso comincio già a avvitare comincio già a avvitare e dico al tecnico, all'infermiera di stimolare la stimolazione quando la facciamo è meglio poi chiedere all'infermiera di andare a velocità ridotta per meglio apprezzare la morfologia del QRS in questo caso adesso vedete che andranno eccolo qui stanno scegliendo la velocità ridotta quindi di solito andiamo a 25 ed ecco qui vedete 5, 4, 3, 2 stiamo facendo normali soglie c'è un cambio di morfologia perché evidentemente passiamo da un non selective a una perdita della cattura essiana rimane solo la cattura muscolare fino ad ottenere anche la perdita della cattura muscolare e quindi è bene a notare qual è vedete questa è la perdita di cattura questo è un QRS più largo quindi da cattura solo muscolare è bene a notare se è la cattura dell'IS che è quella del muscolo ma esiste anche una successiva evoluzione della stimolazione lissiana la stimolazione della branca sinistra come vedete la stimolazione della branca sinistra vuol dire stimolare non a questo livello ma un po' più sotto passando attraverso il setto il setto interventricolare fino ad arrivare quasi alla superficie endocardica del ventricolo sinistro su cui giace la branca sinistra e vedete in questo caso come un blocco di branca sinistro con il classico noccio eccetera possa essere stimolato con una stimolazione della branca sinistra in maniera ottimale e un restringimento del QRS quali sono le figure che cerchiamo nella stimolazione della branca sinistra? Allora, cominciamo cominciamo stimolando e cercando il cambio in V1 il cambio di morfologia da un aspetto a W a un aspetto Q grande R piccola oppure R piccola Q grande R piccola mano a mano che avvitiamo guardiamo il cambio nella impedenza unipolare cerchiamo poi alla fine quando siamo arrivati l'aspetto quindi è quasi da blocco di branca destro incompleto cerchiamo che il tempo di attivazione in V5 e V6 sia inferiore a 85 millisecondi indicazione che stiamo reclutando perfettamente la branca sinistra poi possiamo osservare un potenziale della branca sinistra guardando a 100 di velocità possiamo osservare dei cambi di morfologia da una stimolazione non selettiva a una selettiva oppure da una non selettiva alla cattura settale con le manovre di pacing decrementare alla fine facciamo una angiografia per dimostrare che il tip del catetere è dentro il setto brevemente guardate questo è un blocco di branca sinistro con addirittura un blocco atrio is e nulla quindi un blocco sottruissiano o infraissiano per dirsi voglia stimoliamo all'is prossimale l'is prossimale non corregge bene vedete il QRS rimane un QRS largo proviamo ad andare un is un po' più distale quindi un po' più sotto di questa posizione testimoniato dal fatto che l'atrio quasi non si vede si percepisce un is anche in questo caso il QRS è un po' più restretto ma anche in questo caso non è soddisfacente per cui andiamo verso la simulazione della branca sinistra eccola vedete QRS molto molto più stretto con un'attivazione della defensione intrinsecoita molto rapida espressione dell'attivazione ventricolare sinistra e un blocco di branca destro incompleto questo è il catetere all'interno del setto e noi quando avvitiamo guardiamo eccola qua la V1 e la V6 nella V1 guardiamo questa in questo caso non c'è il VW l'aspetto VW però è un classico blocco di branca sinistro anche in questo caso e vedete mano a mano che andiamo avanti nella stimolazione si restringe questo e l'attivazione del ventricolo sinistro l'espressione della defensione intrinsecoida in V6 diventa molto più rapida vedete ecco in questo caso si restringe l'aspetto in V1 fino ad avere questo aspetto finale dove l'attivazione questo intervallo l'attivazione ventricolare sinistra è estremamente rapida e c'è questo aspetto di tipo blocco di branca destro incompleto questo è un altro esempio QRS il blocco di branca sinistra è estremamente allargato 180 millisecondi con la stimolazione di branca sinistra 100 millisecondi il tempo di attivazione ventricolare sinistro 44 verso 88 qui vedete un esempio di una simulazione di branca sinistra con un potenziale di branca di solito questo intervallo è molto più corto che l'HV 20-25 millisecondi vedete addirittura in questo caso l'avevamo fatto con un sistema di mappaggio tridimensionale NAMEX in cui avevamo fatto inizialmente questa nuvoletta del bis e poi la branca sinistra l'aspetto ecocardiografico è il seguente ventricolo sinistro setto questa è la parte anteriore questa è la parte posteriore giusto nel mezzo del setto vedete in questo caso l'elettrocatetere è avvitato completamente all'interno del setto e questa parte quindi stimola la branca sinistra che scorre lungo la parte endoventricolare del setto questa è un'altra rappresentazione vi ho disegnato qui purtroppo non funziona il filmato comunque abbiamo fatto una angiografia la angiografia fa vedere come a questo livello si delimiti il setto e come il dipolo terminale circa un centimetro sia completamente all'interno del setto interventricolare guardate è fondamentale vedere le impedenze qui c'è c'è un contatto come da stimolazione settale normale l'impedenza è di circa 100 quando il catetere è a mezza via ovviamente ha meno contatto con il liquido quindi le impedenze saltano e vanno circa 900 vedete come aumentano per poi tornare a questo livello al livello di prima e quindi 600 quindi osservate tipicamente questa salita e discesa delle impedenze le considerazioni finali sono che la stimolazione dell'IS anche se una tecnica ormai vecchia è cominciata nel 2000 da parte di Desmoc e dopo molti anni di cosiddetto dimenticatoio c'è stata un'esplosione di interesse che ha dato un'impulso alla ricerca di nuovi mezzi e nuove tecnologie la stimolazione della branca sinistra è un nuovo approccio estremamente promettente che assieme all'IS adesso va sotto il nome più comprensivo di pacing del sistema di conduzione il pacing del sistema di conduzione non è una terapia matura e quindi una continua ricerca è in corso per migliorare la fattibilità la success rate e ridurre le complicazioni grazie per la vostra attenzione bene grazie Francesco per la tua eccellente presentazione facciamo un piccolo cambio della scaletta per esigenze di scena e passiamo al professor Tondo che non ha certamente bisogno di presentazioni è responsabile del dipartimento di aritmologia del centro cardiologico Monzino di Milano ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dell'elettrofisiologia nazionale e internazionale dedicandosi soprattutto allo studio della fibrillazione atriale delle aritmie ventricolari e ha cambiato con alcune delle sue ricerche gli standard di cura la sua relazione si intitola Novelties in Lidens Cardiac Spacing e ci permetterà di conoscere le novità in questo ambito grazie professor Tondo grazie a voi spero che mi stiate sentendo la sentiamo si si la sentiamo perfetto perché ho delle voci sotto e per cui non ok innanzitutto grazie grazie a voi grazie chiaramente dell'invito e agli organizzatori passo subito all'argomento che mi è stato affidato e che penso sia di sicuramente interesse notevole visto che all'inizio si parlava del pacing cardiaco come della cenerentola ma penso che ormai ci sono delle novità estremamente interessanti soprattutto riguardo la miniaturizzazione dei device io sto cercando di spostare le ok perfetto c'è un po' di latenza nello spostamento delle diapositive la storia è relativamente recente partendo chiaramente dagli anni in cui i device presentavano delle dimensioni sicuramente importanti sino alla diciamo identificazione invece di una modalità di stimolazione intracardiaca che prevede il non utilizzo di elettrocateteri questo evidentemente è un passo gigantesco in avanti a disposizione attualmente abbiamo un solo device cosiddetto senza fili il leadless micro della metronica noi abbiamo avuto all'inizio anche un'esperienza con il nano steam della Saint-Ju dall'ora comunque dell'Abbot e attualmente è in in fase di limite del release un nuovo sistema dell'Abbot ma in questo caso non abbiamo ancora dati per poterne parlare io dedicherò una prima parte della chiacchierata poche slide sulle sui risultati che ormai si stanno accumulando riguardando il Micra e poi in realtà del Micra VDD che rappresenta l'evoluzione successiva del Micra iniziale direi che le ragioni per le quali si è arrivati a identificare una stimolazione completamente intracardiaca sono noti a tutti quindi non dimentichiamo che l'impianto convenzionale presenta ancora una certa quota di possibili complicanze e soprattutto le complicanze di carattere infettivo al giorno d'oggi costituiscono una delle grosse sofferenze dei vari laboratori in quanto poi si è costretti a revisione di tasche piuttosto che a estrazioni complete quindi penso che questo sia uno degli elementi fondamentali per proporre un impianto leadless quando chiaramente il paziente presenta delle caratteristiche cliniche di presentazione adeguate poi senza chiaramente citare altre complicanze come fratture di cateteri o quant'altro due studi importanti che riguardano la prima versione del MICRA il primo che è comparso pochi anni fa su New England e che sostanzialmente sintetizza i dati dei primi 700 rotti pazienti impiantati con il sistema e che hanno potuto documentare sostanzialmente sin dai primi impianti e poi negli anni successivi i miglioramenti della tecnica di impianto il fatto che i tempi procedurali si sono ridotti notevolmente e questo in concomitanza anche a un'expertise che è cresciuta nel tempo e che ha consentito sicuramente di ottenere anche delle informazioni di carattere prettamente tecnico la diapositiva in effetti documenta quello che è stato l'evoluzione dai primi impianti a quelli successivi nella parte sinistra questa torta identifica come nella stragrande maggioranza dei casi all'inizio il device veniva impiantato nella porzione apicale del ventricolo destro mentre solo una quota di circa di poco più del 30% nel setto vero e proprio in realtà ben presto ci si è accorti che la posizione anatomica ideale o comunque più sicura era rappresentata dal setto quindi senza entrare nello specifico al giorno al giorno d'oggi si cerca sempre una posizione settale e direi che la parte destra della positiva quella torta in realtà non dà neppure ragione alla percentuale attuale perché ormai è quasi diffuso oltre l'80% degli impianti vengono localizzati nel setto o addirittura molto alto alla diciamo porzione basale del tratto del flusso dove è possibile ottenere dei parametri biofisici in genere molto stabili e ottimali abbiamo un paio di diapositive che documentano e confortano allo stesso tempo per quanto riguarda la soglia di stimolazione nel tempo e questa si rimane molto molto stabile devo anche dire che l'esperienza insegna che possiamo chiudere l'impianto anche con una soglia che è al di sopra dell'1 volt o 1.5 perché in genere nell'arco di poche ore 24 ore si osserva una riduzione significativa della soglia che può addirittura riportarsi al di sotto del volt questo ha dimostrazione del fatto che in genere l'impianto è estremamente efficace questo vale anche per l'impedenza questo vale anche per il sensing ma solo per diciamo documentare quanto ormai l'efficacia e la sicurezza dell'impianto è alla portata ormai di tutti i laboratori la repositiva riporta un dato estremamente importante che abbiamo citato all'inizio quelle delle complicanze globalmente intese vengono riportati i dati sia dello studio di fattibilità il primo studio con 720 pazienti circa e sia del registro che contempla circa 2000 pazienti in cui si è osservato una riduzione drastica delle complicanze maggiori se comparate ai dati storici quindi ai dati evidentemente degli impianti convenzionali con tasca chirurgica e quant'altro abbiamo circa il 50% di riduzione nel primo studio e nel registro il registro in realtà è la fotografia del diciamo della vita reale e con una riduzione che supera il 60% rispetto a quello osservato per quanto riguarda gli impianti transvenosi convenzionali e qui abbiamo addirittura un dato molto importante perché una delle preoccupazioni all'inizio dell'esperienza era legata alle possibili complicanze di perforazione per fortuna queste complicanze si sono mantenute sempre molto limitate ma attualmente come potete vedere ma questo rispecchia anche la pratica nei laboratori che utilizzano questi device è estremamente bassa e addirittura si può anche affermare che verosimente è anche più bassa di quello che è riscontrato con gli impianti convenzionali questa è in realtà la slide che sintetizza il registro del MICRA non è ancora completato ci sono diversi centri internazionali che stanno partecipando ed è in realtà un grosso osservatorio in cui si accumulano i dati legati agli impianti la slide scusate la slide individua qual è stato il percorso degli impiantatori come potete vedere il numero di deployment del del device cioè quanto in realtà la learning curve ha consentito di arrivare a impiantare il device con un unico posizionamento massimo pochi posizionamenti vedete che esiste una riduzione significativa questo in giallo rappresenta lo studio di rifattibilità e di sicurezza dove allora circa l'ottanta per cento impiantava con uno o al massimo due tentativi di posizionamento e questo percentuale è salita ulteriormente addirittura rasentando quasi il diciamo il cento per cento con dei deployment estremamente bassi quindi questo sta a significare quanto la learning curve è estremamente importante ma soprattutto porta a dei risultati significativi e nel primo anno dopo l'impianto per quanto concerne il il rate di complicanze globali vi è una significativa riduzione dalle prime esperienze dal 4 al 2.7 per cento nella fase poi post market e ancora una volta ovviamente vi è una comparazione tra gli impianti convenzionali quindi transdenosi prendendo in considerazione vari studi e confrontandoli sostanzialmente con l'impianto dell'idless che raggiunge una percentuale di complicanze maggiori significativamente più bassa rispetto al resto la seconda parte della 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 mia chiacchierata si concentra invece quello che è stato quella che è l'evoluzione del del micro e cioè la possibilità di inserire un sistema di pacing le cui caratteristiche sono simili da un punto di vista macroscopico ma è quella che garantisce attraverso un accelerometro una stimolazione atroguidata quindi VDD una quindi stimolazione classica che tutti conosciamo e che ovviamente questo può costituire un'ottima opportunità per allargare le indicazioni all'impianto anche a pazienti che presentano comunque un'attività atriale ma che possono presentare per esempio dei blocchi parossistici il sistema è dotato di un accelerometro la diopositiva sintetizza il meccanismo attraverso il quale il device può sentire l'attività atriale vengono suddivise in quattro fasi che corrispondono sostanzialmente alle fasi dell'attività atriale quindi prendendo in considerazione sia la fase cristolica la fase in cui l'attrio viene sentito al sentimento ventricolare questo consente sostanzialmente di arrivare a identificare quando un'attività atriale non è seguita da un battito spontaneo ventricolare e per cui il sistema da VVI si trasforma in VDD abbiamo degli esempi e soprattutto è importante sottolineare che l'identificazione dei potenziali candidati è importante perché la sincronia atrioventricolare deve essere garantita sostanzialmente a riposo ad altre frequenze c'è uno switch massimo di 115 battiti al minuto e a quel punto il device si sposta da VDD a VVI R quindi R responsi quindi questo deve essere ben compreso perché è importante evidentemente capire quali pazienti possono essere candidabili al sistema UDD qui abbiamo una slide un cartoon che paragona sostanzialmente quali sono i benefici di un dispositivo leadless che possa garantire una sincronia atrioventricolare vedete che a sinistra vengono riportati alcuni elementi il fatto di avere una buona attività meccanica quindi importante il rapporto tra la fase passiva e attiva atriale il fatto di avere dei blocchi atrioventricolari parossistici l'età avanzata la sedentarietà oppure in quei pazienti in cui c'è un rischio effettivo più alto ma questo vale anche per l'impianto di un leadless che non abbia le caratteristiche di sincronizzazione delle due camere e chiaramente anche un'eventuale preferenza del paziente e poi penso che non ci sia bisogno diciamo di sottolineare quali sono le caratteristiche del paziente e può beneficiare di un impianto bicamerale tradizionale direi e punterei diciamo così l'attenzione soprattutto su due elementi la disfunzione sinusale attenzione perché in questo caso un impianto dei sistemi leadless e questo è un altro elemento lo studio Marvel 2 è lo studio che sostanzialmente è iniziato per documentare come obiettivo primario l'efficacia e come ovviamente succede sempre anche la sicurezza del sistema e questo è molto importante soprattutto per dimostrare la capacità del sistema di garantire una sincronia atrio ventricolare e laddove è possibile evidentemente considerare i pazienti che abbiano essenzialmente una attività attività atriale efficace vengono riportati alcuni esempi non so se sono facilmente visibili sullo schermo sono delle ho un paio di schermate legate sostanzialmente alla diciamo capacità del sistema di sentire l'attività atriale e di switchare forse nella diapositiva successiva è più chiaro qui potete osservare che a un certo punto un'onda P spontanea non è seguita da un complesso QRS o comunque vi è un V lungo successivamente il sistema riesce a switchare quindi sente l'attività atriale spontanea soprattutto lo vedete nell'ultimo battito e quindi garantisce una sincronia tra l'attrio e il ventricolo questo è un esempio che ripercorre lo stesso concetto forse nella successiva forse più chiaro vedete come questo è un esempio dal Marvel dallo studio Marvel 2 dove vi è lo switch vedete che vi è a un certo punto la comparsa di un di un blocco la il passaggio sostanzialmente da un VVI sino al riconoscimento da parte dell'accelerometro dell'attività atriale spontanea e quindi di garantire una sincronia tra le due cadere sostanzialmente lo studio ha consentito di documentare che la diciamo il percentuale di pazienti con oltre il 70% di sincronia era significativamente più elevata con un pacing VDD rispetto chiaramente a una VVI a 50 e questo tutto sommato è un risultato estremamente importante addirittura con una sincronizzazione delle due camere che raggiunge oltre il 94% durante il pacing VDD quindi vuol dire che quando il sistema riesce a switchare da VVI a VDD o comunque quando garantisce la sincronizzazione questa sincronizzazione rimane inoltre il 70% dei casi valutati questo anche con diciamo i cambiamenti della postura quindi questo è estremamente importante concludo con sostanzialmente un altro elemento che sicuramente ci interesserà nel futuro molto prossimo è quello di far comunicare un sistema leadless con gli ICD sottocutanei ormai esistono in fase avanzata la possibilità di utilizzare dei sistemi che possono colloquiare quindi garantire un pacing nel caso sia necessario nella fase di diciamo post decribillazione un pacing casualmente sono già stati impiantati casualmente nel senso che sono stati impiantati dei sistemi di defibrillazione in soggetti che già presentavano un leadless device e questo ha garantito la comunicazione tra i due sistemi sempre dal Marvel 2 dobbiamo ricordare che la possibilità di mantenere una sincronizzazione tra le due camere non è solamente un aspetto puramente elettrico risponde anche a un miglioramento di carattere meccanico perché si è dimostrato che aumenta lo stroke volume con il mantenimento della sincronizzazione io per questo possiamo anche saltarlo direi che mi posso fermare qui riconoscendo nel leadless pacemaker ovviamente un come dire un passo in avanti estremamente interessante e questo è solamente l'inizio di una successiva miniaturizzazione di tutti i sistemi di pacing e verosimente anche di defilizzazione per quanto riguarda l'evoluzione e quindi verso il sistema WDD è dimostrato che tale algoritmo consente una sincronizzazione in una elevata percentuale dei pazienti impiantati e in particolare si è dimostrato come nell'idless prima versione un impianto sicuro e quindi con una riduzione significativa anche delle possibili complicanze io mi fermo qui e vi ringrazio per l'ascolto benissimo molte grazie professor Tondo per la bellissima presentazione passiamo al successivo oratore abbiamo alle nostre spalle anche il professor Gaeta che è il dottor Antonio Donofrio che è responsabile dell'unità operativa di elettrofisiologia dell'ospedale Monaldi di Napoli anche lui non ha bisogno di presentazioni un eccellente oratore un grande ricercatore che negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla ricerca e allo sviluppo di questa terapia rivoluzionaria che è l'ICD sottocutaneo e il titolo della sua relazione Is SICD the new standard of care for patients without pacing indication grazie dottor Donofrio signori moderatori cari colleghi consentitemi di ringraziare gli organizzatori del 32esimo congresso cardiologico delle giornate torinesi e per il rinnovato invito il tema che mi è stato proposto è se il defibrillatore sottocutaneo può essere uno standard un nuovo standard di cura per pazienti senza indicazione al pacing ovviamente i defibrillatori sono stati usati sono stati introdotti per ridurre il rischio di morte di morte improvvisa morte improvvisa che rappresenta dall'11% di tutte le morti naturali per il 50% di tutte le morti cardiovascolari e il 40% delle morti improvvise si verificano in pazienti con fattori di rischio noti i defibrillatori hanno dimostrato non solo una diminuzione della mortalità antiarittimica ma anche una diminuzione della mortalità totale sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria non tutti i pazienti tuttavia impiantati con un defibrillatore transvenoso hanno esperienza diciamo hanno esperienza di arittimie che richiedono una terapia ma tutti sono esposti al rischio dei cateteri intracardiaci rischi che possono essere procedurali legati all'impianto del device legati alla failure del catetere e ai rischi connessi alle spianto nasce così quindi la necessità di un nuovo tipo di terapia di un nuovo tipo di device interamente sottocutaneo che non richiede cateteri nel cuore che lascia quindi il sistema l'apparato cardiocircolatorio indenne e che usa diciamo facilmente impiantabile che usa dei landmarks dei reperi anatomici ben delineate che ben delineati e che riduce la floroscopia durante l'impianto e che viene equipaggiato con sofisticati algoritmi per la detezione e il trattamento per la detection e il trattamento della fibrillazione ventricolare delle tachicardie ventricolari il primo lavoro diciamo ufficiale del sottocutaneo è del 2009 nel 2010 noi impiantiamo il primo in Italia il primo sottocutaneo e vedete come in poco tempo questo nuovo defibrillatore riesce ad entrare nelle linee guida sia quelle europee che successivamente in quelle americane viene abbiamo una seconda generazione ed una terza generazione quindi con con un equipaggiamento di algoritmi che lo rendono sempre più performanti nel 2015 le linee guida europee impongono il sottocutaneo in classe 2A nei pazienti come alternativa al defibrillatore trasvenoso nei pazienti con indicazione ad un defibrillatore quando non vi è necessità di un pacing per la bradicardia per la resincronizzazione o per un pacing antidachicardico nel 2017 le linee guida americane pongono il sottocutaneo in classe 1 nei pazienti in cui non vi è un accesso vascolare quindi adeguato e che sono a rischio di infezioni ma quali sono questi pazienti a rischio di infezioni sono i pazienti che hanno avuto una precedente infezione pazienti con insufficienza renale con diabete o che sono cronicamente immunodepressi e vedete che più del 70% dei pazienti in cui vi è un'indicazione all'ICD e che hanno più di 60 anni hanno almeno un fattore predittore di infezioni come diabete lo scompenso cardiaco la malattia renale e precedenti infezioni dobbiamo però rispondere al quesito che mi è stato posto cioè l'SSD può essere uno standard di care di cura e vedete già nel 2016 nel 2016 avevamo fine 2016 avevamo fatto questa survey why not SSD why not avevamo preso 39 centri in Italia che impiantavano defibrillatori dopo tre mesi abbiamo chiesto perché non hai impiantato nel tuo paziente un sottocutaneo vedete che il 45% ha risposto che vi era necessità per il pacing un altro 36% perché necessitava di una terapia di un pacing antitachicardico ebbene abbiamo rivisto gli impianti e alla luce delle linee guida solo il 7% dei pazienti aveva una classe 1 per indicazione al pacing mentre la necessità per l'ATP era solo del 4% quindi vi era una percezione di necessità di pacing e di pacing antitachicardico quando in realtà per le linee guida era soltanto il 7 e il 14 ora se consideriamo che il 100% dei pazienti potevamo dire che forse l'89% delle persone potevano essere erano elegibili a ricevere un sottocutaneo tuttavia in quel periodo vedete uscivano usciva il registro effortless quale ci diceva guardate che la frazione di elezione dei nostri pazienti intorno al 43% sono pazienti con cianulopatie con cardiopatia aritmogene del ventricolo destro con cardiopatia ipertrofica e la cardiopatia ischemica non era molto rappresentata quindi non potevamo diciamo diciamo dire che tutti possono il 89% dei pazienti potevano assumere un potevano essere trattati con un sottocutaneo e questo dato dell'effortless era anche confermato dal nostro lavoro in cui vedete che nel 2014 solo il 38% dei pazienti presentava una cardiopatia una cardiopatia anche se nel 2017 dal 38% si passava al 58% e una frazione di elezione inferiore al 35% nel 2014 si rappresenta solo nel 33% dei casi anche se in poco tempo dal 33% si è passati al 53% per dare una risposta più diciamo completa io porto questo lavoro l'untouchet pubblicato recentemente su Siculation su 1111 pazienti che sono stati arrolati in 110 siti nel mondo il criterio di inclusione erano pazienti in prevenzione primaria che avevano necessità di un defibrillatore sottocutaneo e che avevano una frazione di ezio inferiore a 35% senza indicazione ovviamente al pacing l'endpoint primario era la libertà da uno shock inappropriato a 18 mesi che doveva essere almeno del 91% e una libertà da tutti gli shock per tutte le cause a 18 mesi che doveva essere almeno dell'85% vedete i risultati di questo studio mostrano come la libertà da shock inappropriato era del 95% quindi superiore a quella attesa così come pure la libertà da shock inappropriati per tutte le cause raggiungeva il 90% superiore all'85% atteso ma il dato importante di questo studio era anche che valutando la frequenza di shock inappropriati vedete che abbiamo il 3,1% di shock inappropriati che sicuramente è più basso rispetto a quello dei transvenuti e un altro dato che si aggiungeva è che l'ingresso del smart pass cioè di un algoritmo che migliorava la performance di detection del sottocutaneo quindi evitava il doppio conteggio sull'onda T avevamo addirittura il 2,4% per cui si dimostra con questo studio che il sottocutaneo il defibrillatore sottocutaneo è efficace è sicuro anche in pazienti con una frazione di edizione più bassa quindi con condizioni cliniche ed emodinamiche più gravi che lo shock le reti di shock inappropriati del 3,1% ad un anno ed è il più basso riportato rispetto a tutti gli studi che avevano preso in considerazione il transvenuso un altro studio recente apparso su New England sempre 2020 di poco tempo fa è uno studio randomizzato che ha comparato il sottocutaneo con il transvenuso per dimostrare la non inferiorità è uno studio quindi prospettico randomizzato testa a testa di confronto tra sottocutaneo e transvenuso in 849 pazienti e queste sono le caratteristiche dei pazienti e vedete che il 70% circa aveva una cardiomepatia ischemica una cardiomepatia non ischemica era presente nel 23% di questi pazienti erano tutti in prevenzione primaria quindi il 18% solo in prevenzione secondaria e una frazione di elezione media del 30% il sottocutaneo ha dimostrato una non inferiorità rispetto al transvenuso quindi una performance comparabile quando si andavano a considerare gli endpoints secondari cioè le complicazioni correlate col device vedete che abbiamo più complicazioni correlate col device 9.8 rispetto a 5.9 del sottocutaneo non è statisticamente significativo ma probabilmente è una questione di follow up e la differenza la facevano prevalentemente alcune complicanze come il premodorace la perforazione del catetere e la necessità di riposizionare lo stesso catetere se andavamo per quanto riguarda gli shock inappropriati avevamo una non una non in inferiorità avevamo 9.7 per il sottocutaneo e 7.3 per il transvenuso ma qui diciamo dobbiamo dire che lo smart pass era praticamente non era ancora era presente solo nel 15% degli impianti quindi è qualche cosa che è venuta successivamente e quindi diciamo spiega questo questo rate di shock inappropriati maggiore per quanto riguarda le complicazioni correlate al device vedete avevamo 6.6 per cento di complicanze nel transvenuso 1.4 nel sottocutaneo anche qui la differenza la facevano il premodorace le perforazioni cioè tutto quello che dipende in qualche modo dal 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 catetere per quanto riguarda la morte per ogni causa non vi erano differenze statisticamente significative vi era un lieve incremento di mortalità col sottocutaneo ma era legato a morti non cardiovascolari prevalentemente di origine tumorale quindi lo studio pretorion concludeva che il sottocutaneo non è inferiore al transvenuso rispetto agli eventi avversi correlati che dovrebbe essere considerato diciamo nei pazienti in cui non vi è nessuna non vi è indicazione al pesimo in conclusione cari colleghi gentili moderatori il sottocutaneo è stato incluso nelle linee guida ESC e americane è efficace e affidabile terapia per la prevenzione della morte della morte improvvisa il sottocutaneo dovrebbe essere considerato in tutti i pazienti che non hanno necessità di un che hanno necessità di un ICD ma senza indicazione al pacing e naturalmente nuovi miglioramenti tecnologici ulteriormente espanderanno le indicazioni nella pratica chimica grazie per l'attenzione io volevo provare a chiedere a voi che siete comunque due persone navigate se avete esperienza sui sui leadless ah Gabriele ci senti io vi sento bene e spero anche voi tu ci salvi perché ti sentiamo bene siamo contenti di vederti abbiamo disperato fino in fuori per favore cerca di fare in modo di spiegarci perché non è perché vale la pena avere il controllo remoto perché come tu sai qua in Piemonte recentissimamente abbiamo ottenuto una DGR che ha finalmente riconosciuto la prestazione di controllo remoto e noi siamo molto felici però vedere nel tuo titolo questa frase che potrebbe essere dubitativa mi ha lasciato un po' sgomento a te la parola vai assolutamente ma vi ritengo completamente responsabili di questo titolo per cui condividiamo questa serie di riflessioni in in tema un attimo che vedo se riesco ok allora parlando un po' di numeri questi sono i numeri che fanno parte del lavoro sui pazienti portatori di dispositivi impiantabili della regione Veneto sono numeri importanti che comportano in questi pazienti la necessità di una serie di visite periodiche di accessi periodici in ospedale che sono più frequenti per i pazienti portatori di defibrillatori potenzialmente un po' meno per i pazienti portatori di pacemaker per i dispositivi semplici a fine vita batteria si intensifica la frequenza dei controlli complessivamente se faccio conto sui pazienti impiantati nella regione Veneto negli anni tra il 2014 e il 2017 io ho la necessità di gestirmi nella mia regione oltre 40.000 follow up in office che è un numero importante su cui io devo investire delle risorse e tradizionalmente i pazienti che vengono in ospedale lo sappiamo benissimo sono pazienti anziani che devono venire con l'ambulanza con il parente accompagnati che affollano le nostre sale d'aspetto che in questi periodi in questi mesi diventa ancora più problematico gestire perché le sale d'aspetto non devono essere affollate questa è già una situazione di criticità per cui lasciare il paziente a casa diventa un vantaggio complessivo per tutti dalla struttura ospedaliera per il paziente per l'ospedale per la società complessivamente negli ultimi 15 anni 20 anni una serie di studi di registri di valutazioni di esperienze cliniche si hanno tutte orientato e concluso che la gestione attraverso il controllo monitoraggio remoto dei pazienti portatori dei dispositivi è assolutamente vantaggiosa tanto che nelle linee guida siate molto molto bene a più livelli si è confermato che il controllo monitoraggio dei dispositivi è vantaggioso per la gestione della parte elettrica e anche per la gestione della parte clinica in particolar modo per la diagnosi precoce della fibrillazione atriale e in maniera progressiva in questi anni anche per la gestione dello scompenso cardiaco i vantaggi ve li ho già un po' anticipati sono a tutti i livelli a 390 gradi oserei dire oltre l'angolo giro per l'ospedale abbiamo un risparmio di risorse di personale di tempo medico di tempo infermiere per il paziente che non deve più venire in ospedale per una gestione che può essere assolutamente valutata da casa per la società il parente del paziente non deve più prendersi la giornata per accompagnare il papà l'ambulanza può essere gestita per altre cose i pazienti possono essere mantenuti nelle case di riposo normalmente questo questo percorso questa prestazione ha un corrispettivo economico che è stato trasferito in alcune realtà qualche anno fa erano la provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto che ne potevano godere in questi ultimi mesi Frivi Venezia Giulia in parte in Lazio qualche giorno fa ho avuto la bella notizia che anche il Piemonte si è affiancato ufficialmente a questa modalità di gestione dei pazienti quali sono i vantaggi che noi abbiamo la possibilità di garantirci e arrivo alle conclusioni noi abbiamo la possibilità di gestire al meglio i dispositivi ottimizzando i consumi della batteria possiamo ridurre le sostituzioni abbiamo una precoce possibilità di rilevare le complicanze associate alla dislocazione dei cateteri possiamo avere per tempo la notifica che è insorta una fibrillazione atriale possiamo avere per tempo la notifica che il paziente sta perdendo lo stato di compenso con il contatto telefonico esiste una miglior compliance anche nella gestione nell'autogestione del paziente stesso i pazienti in ospedale ridurre le liste d'attesa possiamo complessivamente avere una miglior gestione del paziente qual è il problema oppure qual è la considerazione con cui concludo questa breve riflessione sul monitoraggio remoto che e la rubo da una collega che l'ha pubblicata su The Economist che noi abbiamo una enorme possibilità adesso di rendere migliore la vita dei cittadini usando bene dati e tecnologia il fatto di usarli nel modo più accurato ed efficace di usare la tecnologia nel modo più accurato ed efficace è molto più difficile e complesso che usarli male o non usarli è più facile non usare la tecnologia però questa modalità questo percorso farà sicuramente la differenza nelle decadi a venire vi ringrazio per l'attenzione ribadisco che il dottor Zanotto Gabriele è stato un grande amico ci ha spinto nella strada del controllo remoto e sono sempre più convinto che ci potrà servire con questa recente DGR nel Piemonte e con questo concludo la sessione e lascio lo spazio ai successivi che arrivano grazie a tutti per esserci stati grazie grazie